Venerdì e sabato e poi lunedì e martedì. Quattro giorni per le Olimpiadi dei ragazzi con sei società sportive, con la scuola media e con la partecipazione degli atleti della KT. Una seconda edizione tra calcio, pallavolo, atletica, rugby, corsa e mountain bike. L'idea vincente già l'anno scorso era stata del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze appena scioltosi. Si inizierà venerdì pomeriggio in collaborazione con l'Associazione Sportiva Fontanelle e Branca con il calcio. Sabato pomeriggio il 28, invece si sarà la pallavolo in collaborazione con l'Associazione Pallavolo Gubbio e si giocherà a pallavolo presso la palestra polivalente. Lunedì 30 e martedì 31 maggio invece le attività si svolgeranno di mattina perché parteciperanno all'iniziativa sei classi della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio Nelli. Queste sei classi il lunedì si affronteranno delle gare di atletica di diverso genere, quindi dalla staffetta, salto in lungo, 100 metri e altre varie gare. In questa occasione ci sarà l'Associazione KT e ci saranno anche degli atleti che fanno parte dell'Associazione, atleti paralimpici che appunto si sgareggeranno. E questa iniziativa tra l'altro coincide con i campionati regionali di atletica leggera. Sempre contemporaneamente in quella mattinata ci saranno anche le partite di rugby. Il martedì 31 maggio è la conclusione delle Olimpiadi e presso il circuito ciclabile Le Cerque si faranno la corsa campestre e la mountain bike. La corsa campestre in collaborazione con la Gubbio Runners e la gara di mountain bike con la Gubbio Ciclismo Muccagliana. Ma non finisce qui perché domenica 29 maggio torna anche il motoraduno Free Motor Cycles per appassionati delle due ruote. Le iscrizioni che vanno dai 15 ai 35 euro prevedono la colazione, il pranzo al rientro presso la taverna di San Giorgio e la spizzettata finale. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto come sempre per le attività associative del territorio. E per chi volesse assistere nel pomeriggio al palio della balestra è previsto uno sconto di 5 euro in convenzione. Rivolgo l'invito a tutti i cittadini e Gubbini per il nostro 17esimo Free Motor Cycle, perciò un giro in moto, tutti insieme, una giornata divertente, speriamo, con il sole. Partiamo da Semonte alle 7 e mezzo per chi vuole venire con le moto, il giro non essendo tanto lungo che andiamo a Sisi possono venire anche scooter, vespette, tutti, tutte le due ruote. Ci troviamo a Sisi, facciamo colazione e poi torniamo a Gubbio, perciò anche chi vuole venire a Gubbio a pranzo siamo alla taverna di San Giorgio. Tutti insieme cerchiamo di stare in allegria, di ricordare insieme tutti i nostri cari che hanno perso la vita proprio sulle due ruote, in memoria di mio fratello ma di tutti gli altri.